Annarita Montagna è la nuova comandante del Corpo di Polizia Municipale di Fano. È quanto emerge dai punteggi pubblicati sul sito dal Comune, conseguiti dai candidati, risultati idonei alla terza prova orale del concorso indetto dal Comune per ricoprire il ruolo lasciato vacante da Giorgio Fuligno. La Montagna ha raggiunto un totale di 93 su 100, Gron Alan 90 su 100 ed il terzo candidato Benigni Roberto 88 su 100. Dei 90 soggetti che avevano fatto domanda un po' da ogni parte d'Italia per partecipare al concorso, solo in 12 si sono presentati alla palestra Venturini per disputare le due prove scritte. Ora l'iter burocratico impone che l'ufficialità della nomina avvenga dopo che la Commissione avrà depositato i verbali e che questi siano controllati dalla Segreteria del Comune e convalidati. Dopodiché arriverà la nomina ufficiale. Anarita Montagna, già vicecomandante fino ad oggi, in alternanza con l'altro vicecomandante Alessandro Di Quirico, ha condiviso il comando. Ed ora, una volta arrivata l'ufficialità, andrà ad infoltire la schiera di colleghe che già ricoprono l'incarico di comandante della PM, come a Cagli, Fossombrone, Colli al Metauro e Mondolfo e come la Presidente della Commissione giudicante, Liliana Rovaldi, comandante della Municipale di Ancona, con il grado di generale.